Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come vedere gli FPS, i ping, la latenza, tutto, veramente tutti i dati della telemetria, veramente tutto su Fortnite. Come puoi vedere in alto a sinistra faccio vedere gli FPS ma ovviamente ho avviato Fortnite attraverso Steam, c'è anche il tutorial su come mettere Fortnite su Steam e attraverso Steam puoi anche mettere gli FPS e farli vedere su Fortnite, ok? Quindi in questo caso noi attiveremo l'interfaccia degli FPS, i ping e tutti i dati attraverso il gioco, quindi in questo caso vai sulla schedina qua, impostazioni, impostazioni qua, scende fino a giù e qui c'è scritto grafica avanzata, mostra FPS, indicatore di latenza, metti sì, mettiamo pure questo, invidere, reflex a base, latenza, questo non ci interessa e facciamo applica. Una volta fatto andiamo su questa io partita, scendiamo fino a giù e mettiamo anche le statistiche di debug effettive, statistiche di debug di latenza, puoi anche attivarle tutte, tanto non succederà proprio, cioè non avrete un danno ma avrete più cose sullo schermo, ok? Più cose su Fortnite quando giocherete. E adesso vi faccio vedere tutte queste statistiche nella partita. Come puoi vedere, in alto ci sono veramente tutti i dati, FPS, latenza, ping, tutti i dati della telemetria, tutto, tutto quello che c'è da vedere su Fortnite. Eccoli là, durante la partita. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come vedere gli FPS, la latenza, i ping, i dati, tutta la telemetria quando giocate, iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!